E' un disastro, è un disastro completo. Buongiorno signori, secondo voi l'attuale PD va sciolto? Oh mamma mia, lo viene a chiedere a una che il PD non lo voterà mai più. Secondo lei il Partito Democratico va sciolto? No. Si è sciolto, è sciolto. Sciolto? Sciolto, sì. Assolutamente no. Sciolto. Non dà mia noia a nessuno, non dà mia noia, perché si deve sciogliere. Sono un vecchio comunista, ancora credo che si possa andare avanti. Eh, per rinascere, per risorgere bisogna morire. Io credo che siamo sulla morte, ormai accertata. E' bene proprio che se ne vada, per come è, è bene che se ne vada. Io non credo che andrebbe sciolto, però purtroppo non abbiamo alternative. Chi dovrebbe andare via? Tutti, tutti. Tutti, se ci vuole una classe dirigente completamente nuova. Renzi compreso? Renzi compreso. Chi c'è c'è nel PD, anche Renzi va medio di quelli che ci sono adesso. Ma io leader vedrei bene Zingaretti. Zingaretti, che ormai Renzi ha fatto il suo tempo. Chi vede come leader? Chi vede più come no? Come politico nessuno. Vedo bene Martina, che secondo me è un gran politico e che simpatizza. E' più che altro modesto, perché le persone arroganti vedi dove l'hanno portato l'Italia. C'è chi dice che andrebbe sciolto. C'è chi dice che andrebbe sciolto.